Un grande risultato, finalmente dopo otto anni abbiamo approvato alla Camera una nuova legge elettorale, una legge elettorale che funziona, che garantisce governabilità e stabilità, che garantisce il risultato certo il giorno stesso delle elezioni. Quindi una grande soddisfazione soprattutto per tutti i partiti che hanno lavorato per questo risultato e che hanno contribuito a questo risultato.